Quattro mesi fa orbitavano a circa 340 km di distanza dalla superficie terrestre, per installare sulla Stazione Spaziale Internazionale il nodo 3 e la cupola, gli ultimi due gioielli del Made in Italy per lo spazio. Oggi, tre degli astronauti della missione sono alla Sapienza, per raccontarci della loro esperienza. La missione STS-130 alla quale abbiamo partecipato è stata qualcosa di indimenticabile. Fruttuare senza la gravità è stato emozionante come nient'altro sulla Terra. Vedere la Terra dallo spazio da una prospettiva diversa è meraviglioso. Se la Terra è così bella, chissà come il Paradiso allora. Lo spazio ti dà una prospettiva diversa per vedere la Terra. Stando a 200 miglia dal suolo terrestre e viaggiando a 8 km al secondo, non riesci a renderti conto della distanza tra te e del pianeta che stai lasciando. Quello che vedi non è come una cartina politica della Terra. È un mondo senza confini. Gli unici colori che distingui sono quelli del mare, delle nuvole e della terraferma. È stata un'esperienza meravigliosa. Guardare la Terra dallo spazio ti fa capire che ci sono così tanti paesi diversi che vivono in un unico solo pianeta, protetto da un'atmosfera veramente sottile e fragile. Questo ci fa capire che dovremmo proteggere di più la Terra sulla quale viviamo. La missione Shuttle STS-130, lanciata dalla NASA, ha rappresentato un passaggio importante non solo per la messa a punto della Stazione Spaziale, ma anche per l'Italia. E l'incontro, organizzato dal CRAS in collaborazione con ASI, è stata un'occasione importante per trattare temi che da sempre stuzzicano la fantasia dell'uomo. Come nasce l'idea di questo incontro? Siamo al centro di molte delle attività spaziali internazionali. La Sapienza è uno dei luoghi dove in Italia più si produce attività di ricerca nel settore aerospaziale e i nostri collegamenti a livello internazionale ci portano a questi risultati. Naturalmente questi sono risultati di comunicazione, di immagine, ma ovviamente anche risultati scientifici. In particolare noi abbiamo appena firmato come centro di ricerca allo spaziale di Sapienza una convenzione con l'Università di Purdue negli Stati Uniti. Abbiamo poi uno stretto legame con le attività che si svolgono presso la NASA. Quindi ovviamente da tutto questo rapporto, relazioni e contatti nascono queste opportunità. Ciao, you're watching Uniroma TV.